bene come diceva un mio amico amico manco lo conosco un americano this is my camper bike iniziato il filmato così un filmato da cui ho preso spunto circa sette otto mesi fa lui si è costruito un camper simile a questo che poi in realtà è una roulotte da attaccare alla sua bicicletta più o meno abbiamo usato gli stessi materiali io ho copiato da lui alcune soluzioni altre secondo me migliori io ho fatto un telaio in alluminio lui l'aveva fatto in legno lui l'ha fatto tutto diciamo la struttura e le sovrastrutture tutto fascettato io invece ho fatto delle maschere quindi l'ho avvitato tutto cercato di fare diciamo un mezzo un po più solido del suo e ci sono circa 110 ore di lavoro chiaramente sono partito dal nulla dovessi farne un altro probabilmente metà tempo poi che dire ho fatto tutto quello che ritenevo necessario per avere una discreta abitabilità dalla piedini di stazionamento fusto dell'acqua più di 30 litri questo comodo tavolo che può essere montato sia qui sopra magari per giornate in cui piove piovigino c'è vento quindi è possibile mangiare anche all'interno oltre che all'esterno un piccolo lavandino praticamente c'è un po tutto i vari mobili non ho il frigorifero perché l'energia elettrica ce l'ho ma sarebbe un problema far funzionare un frigorifero durante diciamo le ore di viaggio ho il generatore posso fare intorno i 60 chilometri al giorno con una sola carica mi servono tre ore per caricare quindi solo nella diciamo nel momento preserale serale e niente ho in preventivo di partire quest'anno un po prima intorno al 15 20 giugno luglio questo perché l'altro anno sono partito più tardi e ovviamente avendo spaccato il triciclo con cui ero partito sono un po finito gli sgoccioli con i tempi per poi ritornare sul posto un altro mezzo eccetera quindi quest'anno parto un po prima in modo che se ci sono dei problemi posso ancora fare in tempo recuperare qua il relitto se non lo brucio sul posto chiaramente dipende dai problemi che posso avere rimettere tutto quanto a posto e ripartire comunque ancora nel mese di agosto dove andrò l'itinerario non l'ho ancora fatto l'ho tracciato ma non è definito comunque seguirò di nuovo un po il corso di fiumi e laghi anche perché con un mezzo del genere sono fuori regola praticamente in maniera totale cioè ci sono quattro misure per legge di altezza lunghezza peso io praticamente sono più del doppio di tutte quattro le misure perciò devo anche stare un po attento al tipo di strada strade che farò perché non sarò certo un missile e purtroppo essendo largo un metro occupo abbastanza spazio ecco e quindi potrò spostarmi solo magari in certe ore del giorno certe strade potrò farle solo certi momenti insomma è un po più diversa come a me piace fare ogni anno ma sempre includendo la bicicletta come base sono arrivato a circa 120 kg di peso del carretto allestito poi acqua a parte ma diciamo che tra me e la bici siamo altri 120 kg quindi siamo 250 kg che però insomma la bici ce la fa bene ho già provato salite anche oltre il 17 18 per cento tira bene volevo quasi modificare i rapporti accorciarlo un goccino ma probabilmente lascerò tutto così tanto si romperà altro e niente vi aggiornerò prossimamente con magari l'itinerario poi definito un saluto a tutti presto aggiornamenti ciao